Sì, è una giornata importante e molto importante per me. L'anno scorso ero qua con le stampelle, quest'anno le ho rimesse nel solaio e quindi sono contento di essere qua anche quest'anno. È una giornata che serve per ricordare tutti i crimini di guerra compiuti dal dominio nazifascista che sono state uccise persone, che poi non avevano neanche colpa e quindi sono i momenti più brutti della storia dell'Italia che speriamo non si ripetano mai più. Un momento partecipato dalle forze dell'ordine e dai cittadini, ma adesso si va anche nelle scuole perché hai più giovani che bisogna tramandare questa memoria per non dimenticare. Esatto, vedo la partecipazione di tutte le forze dell'ordine, delle associazioni, bisogna andare nelle scuole per insegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti un modo corretto di avere i rapporti con anche altre nazioni, con altre realtà.